Durante il nostro viaggio dedicato alla gastronomia di Camporreale ci siamo fermati nello stand della pizzeria Gran Vulcano. Vincenzo Marchese è uno dei titolari. La vostra pizzeria vanta Origini Antichissime, una delle prime pizzerie che ha aperto a Camporreale. Esatto. Mio padre ha aperto questa pizzeria nel 1975. Ad oggi a distanza di più di 40 anni la pizzeria va ancora bene e oggi siamo qui al Camporreale Dei per presentare la nostra shavata che è una tradizione di Camporreale e che noi cerchiamo ancora oggi di mantenere come era all'origine. Ma cos'è la shavata? Un po' pizza, un po' sfincione? Cos'è di preciso? La shavata non è né pizza né sfincione. Shavata è una shavata, non si può identificare. Praticamente questa ha origini antiche. La Camporreale la facevano le donne dopo aver fatto il pane. Ammorbidivano un panetto di pasta, mettevano pomodoro, scipolla, acciughe, quindi ingredienti poveri che si avevano giornalmente a casa. Ed era una festa per i mariti ritornando dal lavoro dei campi. Oggi proponiamo oltre la shavata, proponiamo moltissime altre pizze. Per dire che abbiamo la salmonata, la vegetariana, la gran vulcano, la nettuno, poi abbiamo la pistacchio, la zingara. Ci sono tante varianti di pizza che non vi sto ad elencarle tutte. E per chi volesse venire a trovarvi per degustare le vostre pizze speciali e la vostra shavata, dove può venirvi a trovare? Ci trova a Camporreale, al Centro Nuovo, via dell'Illaotto. Vi aspettiamo. Gran vulcano.